Dargli col telecomando e smanettare un po' Comunque poi nel corso della trasmissione lo ripeteremo più volte Dunque, detto ciò Possiamo quasi partire, è pronta, si è vestita, si è preparata No, ma adesso non spoglio perché fa caldo Allora, abbiamo ancora due trasmissioni Questa e quella del 19 prossimo Poi saremo fermi Ok Allora, scrivelo qua E andiamo a far vedere ancora un pezzo R11 Arrivo, arrivo, arrivo Allora, R11 è sempre un pezzo dell'eredità È ovvio Non è che rimango lì La trasmissione del 26 non ci sarà Come non ci sarà Questa bellissima ametista Allora, vi ripeto, il visone scuro è ancora libero Costa 1200 euro Rientra domani e vi verrà consegnato settimana prossima Sì, non ce l'abbiamo da far vedere Non ce l'abbiamo da far vedere, ok Dunque, andiamo avanti con il babbà Un altro punto luce è quello da 70 punti Allora, quando mi desiderano Vai, vai, vai Sarà qualche scuola La quadrata fa niente Si vede il posteriore ma farà felice qualcuno Io non guardo questo Niente amore, è una cosa mia Allora, facciamo rivedere il lotto 28 La splendida trilogia in oro bianco con un carato di brillanti Guardate che bella Ok L'anello che non si poteva mettere a misura Quale? Tu vado a mettere il centralone In oro rosa e in oro bianco Con, allora, bianco Con signore del tennis Eccolo qua Con signore del tennis